E' una cosa pericolosa, un uomo potente e voi dovete stare molto attento. E' una cosa pericolosa, un uomo potente e voi dovete stare molto attento. E' un uomo potente e voi dovete stare molto attento. Un uomo potente e voi dovete stare molto attento. Un uomo potente e voi dovete stare molto attento. Un uomo potente e voi dovete stare molto attento. Un uomo potente e voi dovete stare molto attento.